In studio con Paolo Artemi, giornalista del Corriere della Sera. Ciao Paolo, bentornato qui negli studi di Safe Drive, diritto da un lungo viaggio, da un salone internazionale, da Detroit, e noi ti abbiamo subito preso qui a Peschiera Borromeo per raccontarci quello che hai visto nel Nord America. Da Detroit a Peschiera per dire che nel Nord America c'è una bella dose di ottimismo. Rispetto a due anni fa, al salone del 2009, quando la crisi in America era gravissima per quanto riguarda l'economia, quando non c'erano le moquette per terra negli stand, adesso invece c'è ottimismo. Basta solo un dato a capire che cosa è successo. Le vendite, che nel 2009 si erano fermate a 10 milioni e 400 mila automobili negli Stati Uniti, quest'anno, nel 2011, l'anno passato, hanno raggiunto 14 milioni e 600 mila vetture. Quindi 4 milioni in più danno una bella sferzata di ottimismo. Secondo te un po' del merito di questo ottimo risultato è anche un po' tricolore? Si è parlato molto dei prodotti italiani o dal DNA italiano in Nord America. Mi confermi questo? Senz'altro è un tricolore a stelle e strisce, è questa alleanza tra Fiat e Chrysler che ha dato vita a un nuovo modo di pensare alle automobili americane e italiane. In Italia arrivano dall'America le Tema e le Voyager, in America arrivano le automobili italiane. La prima automobile italiana che arriva in America è una Dodge, un marchio che fa parte del gruppo Chrysler, si chiama Dart e praticamente è una Giulietta con il baule, con il culetto, travestita da macchina americana. Ecco, questo potrebbe essere il discorso della presenza molto importante di un grandissimo stand italo-americano, con Marchion che faceva la prima donna in questo grande salone, in questo importante salone, e con tutti i marchi schierati. Abbiamo parlato di alcune vetture tipicamente americane, però il Salone di Detroit è anche una vetrina internazionale per mostrare, per presentare qualche vettura che arriverà anche nel nostro continente. La prima su tutti mi viene in mente Porsche. Che altre novità hai incontrato, hai visto, che arriveranno anche nel nostro mercato? Dunque, Porsche ha presentato appunto la 911 cabina negli Stati Uniti, che verrà poi in Europa, anzi in tutto il mondo. E comunque il Salone, non so, per esempio, ha lanciato in anteprima mondiale una Buick che si chiama Encore. Buick è uno dei marchi di lusso del gruppo General Motors, e questa Encore è una piccola crossover, una compatta, come potrebbe essere la Mitsubishi ASX, la Q3, la BMW X1. Beh, questa macchina, mentre veniva lanciata a Detroit, veniva fatta conoscere in Europa, perché la sua gemella, che si chiama Opel Mokka, sarà presentata al Salone di Ginevra, ed è la stessa macchina, di qua e di là dell'oceano. Paolo, senza volerti mettere in imbarazzo, è una domanda che di solito non si fa a un giornalista, ma di ritorno a Soni Detroit, qual è stata la vettura che più ti ha colpito, che più ti è piaciuta? Ma, di automobili a Detroit ce n'erano parecchie, c'erano delle provocazioni. C'era, per esempio, una piccola Smart, che si chiama Foras, un piccolo pick-up, talmente piccolo che starebbe sul cassone di un pick-up di quelli veri. Personalmente, però, l'America per me è connotata dalle macchine americane, che sono le macchine con i motori otto cilindri, che consumano tanta benzina, e ce n'era una in particolare che mi ha divertito. Mi ha divertito per la livrea. Intanto diciamo che era una Camaro, una Chevrolet Camaro, che è una Muscle Car, è una coupé muscolosa, eccetera, eccetera. Ma la livrea era divertentissima, sembrava una macchina delle Hot Wheels, cioè le macchine per i giochi dei bambini. Infatti si chiama Camaro Hot Wheels, è un prototipo con tante cromature e darebbe delle sensazioni di guida, insomma, per le riprese ai semafori, per il suo rumore, molto divertenti. Ovvio che, poiché uno... Oggi io abito a Milano e devo pagare l'Ecopass per entrare in centro, allora, a un certo momento, l'auto dei miei sogni diventa l'automobile elettrica. E forse, beh, sì, proprio a Detroit c'era una macchina elettrica che mi piace, era il Maggiolino elettrico. Grazie, grazie ancora e i tuoi racconti sempre molto interessanti dal prossimo Salone Internazionale. Ciao Paolo. Grazie e arrivederci a tutti.